Comando, va bene. D'accordo? Va bene. Obbediamo. Ordini ricevuti. Obbediamo. Ordini ricevuti. Ordini. Subito. Obbediamo. Sì? Pronto? D'accordo. Va bene. Obbediamo. Subito. Ciao. D'accordo. Pronto? Va bene. D'accordo? Sì? Va bene. D'accordo. Costruire. Signore. Obbediamo. Ordini ricevuti. Obbediamo. Ordini ricevuti. Subito. Ordini ricevuti. Signore, immediatamente. Sì, vostra maestà. Comando. Va bene. D'accordo? Sì? Va bene. Ciao. Va bene. Pronto? Tagliare la legna. Come posso rendermi utile? Sì? Tagliare la legna. Certo. Ordini. Subito. Ciao. D'accordo. Sì? Costruire. Comando. Va bene. Costruire. Pronto? D'accordo. Costruire. Ciao. Costruire. Signore. No, hai arras. Mungcio tesoros con el. Signore. Obbediamo. Sì? Come posso rendermi utile? Tagliare la legna. Sì? Va bene. Cacciare. Ordini? Ordini ricevuti. D'accordo? D'accordo. Cacciare. Obbediamo. Obbediamo. Ordini? Subito. Ciao. Sì? D'accordo. Cacciare. Signore? Comando. Va bene. Pronto? D'accordo. Sì? Pronto? Va bene. Ciao. 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 Pronto? D'accordo. Pronto? D'accordo. Costruire. Sì? Va bene. Costruire. Certo. Comando? Pronto? Sto per farlo. Va bene. Sto per farlo. Ciao. Tagliare la legna. Pronto? Va bene. Obbediamo. Ordini ricevuti. Obbediamo. Sì? D'accordo. Cacciare. Signore? Subito. Ordini ricevuti. Obbediamo. Ordini ricevuti. All'attacco. Comando? Ordini? Subito. Obbediamo. Pronto? Tagliare la legna. Ordini? Subito. Obbediamo. Subito. Sì? Signore? Subito. Immediatamente. Sì, vostra maestà. Subito. Subito. Ordini ricevuti. Subito. Subito. Ciao. D'accordo. Va bene. Pronto? Sì. Comando. Costruire. Pronto? Costruire. Comando. D'accordo? Pronto? Va bene. D'accordo? Sì. Costruire. Ciao. Costruire. Comando? Va bene. D'accordo? Va bene. Costruire. Signore? Pronto? D'accordo. Ciao. Pronto? Costruire. Ciao. Costruire. Certo. Sì, vostra maestà. Subito. Signore? Obbediamo. Ordini ricevuti. Obbediamo. Come posso rendermi? Certo. Signore? Sì, va bene. Pronto? Costruire. Sì? Costruire. Comando? Costruire. Immediatamente. Certo. Come posso rendermi? Pronto? Dove affare. Cacciare. Certo. Signore? Immediatamente. Come posso rendermi? D'accordo? Tagliare la legge. Signore? Come posso rendermi? Cacciare la legge. Come posso rendermi? Va bene, d'accordo. Pronto? Construire. Si? Construire. Te has establecido en la ruta comercial, pero crees que te servirà de algo quando i esjercitos arrasen tu imperio? Signore! Ordini! Scegliete un bersaglio! Fuoco al mio ordine! Alla insegne! Alla bandiera! Certo. Come posso rendermi utile? Certo. Signore. Sì, vostra besta. Come posso rendermi utile? Sì, subito. Immediatamente. Come posso rendermi utile? Comando. Va bene. D'accordo. Ciao. Va bene. Costruire. Si? D'accordo. Va d'accordo. Va bene. Costruire. Signore! D'accordo? Ciao! D'accordo. Signore? Sì, vostra maestra. Subito. Signore? Come posso rendermi utile? Immediatamente. Sì, vostra maestra. Come posso rendermi utile? Ciao! Sto per farlo. Sto per farlo. Sto bene. D'accordo. D'accordo. Ciao. Ciao. Va bene. Sì? Sto per farlo. Comando. Pronto? D'accordo. Sì? Comando. Pronto? Pronto? Sì? Va bene. Sto per farlo. Tagliare il cordo. Sto per farlo. Va bene. Sto per farlo. Va bene. Cacciare. Ciao. Va bene. Costruire. Sì? D'accordo. Costruire. Alla insegne! Senza... Radunarsi! Lo vediamo. Alla insegne! Certo. Sì. Come? Subito. Certo. Immediatamente. Signore? Obbediamo. Ordini rice... Subito! Certo. Sì, vostra maestà. Immediatamente. Ciao. Comando. Va bene. Ciao. D'accordo. Pronto? Va bene. Ciao. D'accordo. Sì? Comando. Va bene. Sì? Costruire. Comando. Costruire. Pronto? Costruire. Ciao. Comando. Costruire. Pronto? Costruire. Ciao. Costruire. Sì? Costruire. Comando. D'accordo. Construire Signore Signore Sta chiaro che stai dotato per avanzare Lo che non sta tanto chiaro Probabilmente non per te E come vas a approfondi Signore Retunarsi Sì 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 Inmediatamente Ciao Costruire Costruire Ciao Costruire Sì Vostra maestà Signore Subito Ordini Alla insegne Sì D'accordo Comando Costruire Ciao Costruire Pronto Costruire Ciao Costruire Sì Costruire Comando Costruire Pronto Comando Costruire Sì Pronto Costruire Comando Costruire Ciao Costruire Nessuno Costruire Obbediamo Attaccare Il nemico Posso rendermi Utile Certo Immediatamente Signore Alla bandiera Radunarsi Alla bandiera Signore Attendete Il comando Come posso rendermi utile? Certo Subito Pronto? Ciao Dove farlo Tagliare la legna Signore Immediatamente Sì Vostra Come posso rendermi utile? Signore 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 Al mio Comando Senza Induro Obbediamo Signore Obbediamo Radunarsi Radunatevi Obbediamo Non tagliare Certo Come posso rendermi utile? Signore Alla insegne Alla bandiera Certo Signore Immediatamente Ordini Ordini ricevuti Obbarica Come posso rendermi utile? Come posso rendermi utile? Sì Certo Sì Tagliare la legna Come posso rendermi utile? Subito Immediatamente Signore Subito All'attacco Ordini Ordini ricevuti Subito Sì Subito Immediatamente Ordini Alla insegne Certo Sì Vostra maestria Immediatamente Signore Pronto? Va bene Costruire Come posso rendermi utile? Immediatamente Senza il duccio Raduna Alle insegne Radunarsi Alle insegne Alla bandiera Radun Lo vediamo Alla bandiera Vengarsi Radunarsi Alla bandiera Radunarsi Senza il duccio Alle insegne Certo Sì Costruire Ciao D'accordo Costruire Sì Va bene Costruire Com'altro D'accordo? Costruire Sì? Sto per farlo Sì Come posso rendermi utile? Signore Subito Come posso rendermi utile? Immediatamente Subito Certo Immediatamente Signore Signore Subito Comando? D'accordo Sto per farlo Pronto? Pronto? Ciao Obediamo Obediamo Pegnase Alla bandiera Come posso rendermi utile? Sì vostra maestra Costruire 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 Certo Immediatamente Signore Sì vostra maestra Come posso rendermi utile? Immediatamente Signore Subito Immediatamente Come posso rendermi utile? Signore Pronto Comando Pronto Costruire Sì Costruire Costruire Come posso rendermi utile? Signore Subito Immediatamente Certo Subito Immediatamente Sì Va bene Tagliare la legna Comando Lo farò Sì Sì Pronto Sto per farlo Signore Ordini Attaccare Il nemico Ordini Subito Alla insegne Signore Sì vostra maestra Come posso? Signore Immediatamente Subito Come posso rendermi utile? Immediatamente Sì vostra maestra Signore Alla bandiera Alla insegne Alla bandiera Signore Signore Cragi Cagri Cragi 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 Sì Radunarsi all'abbandonazione!